zainetto tattico germania est il materiale sintetico interamente impermeabile notate la doppia chiusura con attacco metallico in metallo zincato all'interno abbiamo una parte gommata per ampliarlo chiusura con moschettoni metallici a scorrimento maniglietta di trasporto anelli metallici sul reto troviamo dei moschettoni per agganciarlo agli spallacci un passante un materiale gommato anti u strappo da sotto altri agganci da cinturone e anelli laterale altri due cinghetti porta nome